Il posto così iniziamo. Grazie. Grazie. Buon pomeriggio, grazie, scusate se oggi pomeriggio noi proseguiamo la riflessione di questa mattina sul tema cultura e società, una tavola rotonda dal titolo impegnativo essere meridionali ieri, oggi e domani, c'è anche un punto interrogativo per non farsi mancare nulla, io sostituisco il direttore del mattino Alessandro Barbano che purtroppo è in ospedale a Milano e gli facciamo i nostri auguri, una tavola rotonda alla quale parteciperanno quattro esponenti della cultura del meridione che sono Gloria Giorgiani, amministratore delegato di Anele, Mirella Stampa Barracco, presidente della fondazione Napoli 99, Alessandro La Terza, amministratore delegato, si dice dell'omonima casa editrice e Oscar Iarussi, responsabile cultura della gazzetta del Mezzogiorno. Però gli organizzatori hanno pensato di non partire con una relazione tipo comitato centrale sulla cultura del Mezzogiorno ma con un'opzione molto originale. ci introdurrà infatti al tema della cultura meridionale ieri, oggi e domani come recita il titolo Alessandro Preziosi che si definisce attore e napoletano. Alessandro Preziosi ha curato Alessandro Preziosi è anche legato alla Basilicata perché ha curato il laboratorio teatrale di Monte Scaglioso negli anni scorsi e non so bene che cosa farà, ci farà una sua sorpresa che per introdurci al tema della cultura meridionale. Non canterò al pellegrino che si affaccia sui valichi, a chi scende per la stretta degli alburni o fa il cammino delle pecore lungo le coste della serra, al nibbio che rompe il filo dell'orizzonte con un rettile negli artigli, alle migranti, al soldato, a chi torna dai santuari o dall'esilio, a chi dorme negli uvili, al pastore, al mezzadro, al mercante la Lucania apre le sue lande, le sue valli dove i fiumi scorrono lenti come fiumi di polvere. Lo spirito del silenzio sta nei luoghi della mia dolorosa provincia, da Elia a Metaponto, sofistico e d'oro, problematico e sottile. Lo spirito del silenzio divora l'olio nelle chiese, mette il cappuccio nelle case, fa il monaco nelle grotte e cresce con l'erba alle soglie dei vecchi paesi franati. Io tornerò vivo sotto le tue piogge rosse, tornerò senza colpe a battere il tamburo, a legare il mulo alla porta, a raccogliere lumache negli orti, udrò fumare le stoppie, le sterpaglie, le fosse, udrò il merlo cantare sotto i letti, udrò la gatta cantare sui sepolcri. Sono passati tanti anni pieni di guerra e di quello che ancora si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura finalmente ho potuto non so come mantenere la promessa fatta lasciandoli ai miei contadini di tornare fra loro in questo altro mondo che chiuso in una stanza, in un mondo chiuso, ero pur grato alla memoria, serrato nel dolore, neiusi, negato alla storia e allo Stato, ma eternamente paziente in questa mia terra di conforto e di dolcezza dove il contadino ancora vive, non più nella miseria, non più nella lontananza, la sua civiltà in perenne movimento, su un suolo fecondo alla presenza della vita. Qui ci sono cristiani, Cristo non si è fermato ad eboli. Cristiano vuol dire sempre nel linguaggio di cui un uomo. Ora, questa frase proverbiale è molto di più che la negazione di un antico e sconsolato complesso di inferiorità. Noi ci consideriamo uomini, non più bestie da soma, noi non siamo frisculicchi, come si dice, che vivono la loro libera vita diabolica o angelica e Cristo davvero non si è fermato ad eboli. La strada e il treno non abbandonano più la costa di Salerno e il mare addentrandosi nelle desolate terre della Lucania, in questo sud che va da Elia a metaponto, come suggeriscono gli accorati versi di quel Leonardo dei suoi tempi, il poeta ingegnere lucano Leonardo Sinsgalli, che ha tanto fatto per questa terra. Il sud di quei borghi che stanno in cima ai monti come città d'aria nel buio delle grotte dei sassi, ebbene lì si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà, la Gerusalemme del sud, come ebbe a dire Pierpaolo Pasolini, con tutta la sua dolente bellezza. Qui, dove il peso infinito di questa imprevista luce meridiana si moltiplica in una continua esplosione e pare, riveli e apra le forme bizzarre dei monti e renda compatti, durissimi il cielo, la terra e il mare. Qui il domani si può rivelare solo come eterna scoperta. Qui la cultura non si adagia nella molle solarità del mezzogiorno e anche la notte. Anche la notte non si addormenta a tutte le ore, la trovi che si attarda, cammina, si ferma per le strade, tra la gente, per sfogare una vitalità fisica e nervosa e astratta cui il giorno non basterebbe. La notte può illuminarsi imprevedibilmente a saper scoprire, a sapere dove guardare. Ancora di più per questo Cristo qui c'è sempre stato perché qui il tempo scorre con la speranza di un altro tempo, oltre il legame tra la causa e l'effetto, oltre la ragione e la storia. Qui c'è Cristo, qui c'è Cristo e ci sono stati e romani e greci che fiorivano da Siracusa a metà ponto perché il mar Mediterraneo alberga anche tra questi monti e nelle foreste. Il Mediterraneo non è solo geografia. I suoi millenari tesori poetici sfidano quelli affondati negli abissi. Qui la cultura e la storia sono state direttamente calate nelle cose, nelle pietre, nelle rughe, nelle rughe sul volto degli uomini, nel sapere del vino e dell'olio, nel colore delle onde. e nessuno, anche se non come un conquistatore, un nemico o un visitatore, ha toccato questa terra in vano. Questa è la terra che faceva esclamare a Johann Wolfgang von Goethe in una famosa lettera alla donna amata, clandestina, non ho altro da cercare al mondo che quello che ho trovato. Grazie a questa terra i grandi viaggiatori hanno potuto andare al di là dai confini del proprio mondo. Quaggiù il senso del tempo scorre con un'altra rapidità mai sopita, in perenne attività. tempo che cresce su se stesso, tempo sempre attuale, tempo atemporale. E proprio alle sempre attualissime mille patrie di quel grande viaggiatore che fu Carlo Levi, che ho voluto idealmente dedicare a questo intervento, all'esperienza intera che quel giovane nei suoi viaggi andava facendo e che gli rivelava in realtà non soltanto paesi ignoti, ignoti linguaggi, lavori, fatiche, dolori, miserie, costumi, ma non soltanto animali e magie e problemi antichi non risolti e una potenza contro il potere ma l'alterità presente, la presenza costante dell'altro, la infinita contemporaneità, l'esistenza come coesistenza e l'individuo come luogo di tutti i rapporti, quella Lucania che è in ciascuno di noi, forza vitale, mai sopita, sempre pronta a diventare forma. Cristo non si è fermato a deboli. E lo abbiamo immaginato questo paradigmatico omaggio allo scrittore e al viaggiatore come un paradossale ribaltamento del suo titolo più incisivo e provocatorio, pur sempre segno di incontrastato amore verso questo popolo, questo popolo di meridionali che con le parole di Matilde Serrao meriterebbe di essere felice, questo popolo che ama i colori, questo popolo che ama la musica e la fa e che farà sempre di tutto per non merisarsi la sorte che le cose gli impongono. Questo popolo che sa solo dare valore alla civiltà, visto che tutta quella elargita, tanta o poca, l'ha subito assimilata ed eternamente ricreata in un unico mare. Il Mediterraneo non è solo geografia, i suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo e non sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali né nazionali, perché sul Mediterraneo è stata concepita l'Europa. Grazie. Scusate, forse... Grazie, 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 grazie. Grazie soprattutto di avermi dato questa occasione di poter condividere tanta strada che è in me, fatta di sanpietrini ben messi o di strade non fatte, autostrade fatte e non fatte, cercando di così dare il mio piccolissimo ma artisticamente per me molto importante contributo a far toccare queste due mani che stanno scambiando un patto, perché io a nome di tutti quelli che rappresentano la mia in fausta e angelica categoria ci crediamo molto a questo sud, quindi grazie di cuore, grazie, grazie. Grazie, grazie Alessandro Preziosi, se ci avesse avvisato che finiva con Europa avremmo messo lino la gioia anche noi, così avremmo copiato Macron. È stato un inizio molto originale e utile anche per la nostra discussione. Noi che cosa vogliamo fare e che contributo abbiamo chiesto, o meglio gli organizzatori hanno chiesto ai quattro speaker che ci sono? Quello da una parte di darci un po' lo stato dell'arte dell'offerta culturale nel mezzogiorno, cioè le novità che ci sono e ovviamente i problemi che tanto tra noi meridionali non li nascondiamo mai. E poi dopo un primo giro in cui cercheremo di valutare lo stato dell'arte, poi costruiremo un po' una discussione sull'eterna ricerca di senso dei meridionali, da dove veniamo, dove andiamo, noi e la modernità, noi e la globalizzazione. E tutto ciò sarà il prologo poi dell'atto conclusivo di questa giornata che sarà il discorso del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Cominciamo da Gloria Giorgiani che è amministratore delegato di Anele, che ci racconterà intanto che cosa è Anele e poi come vede lei, lo stato dell'arte dell'offerta culturale nel sud. Intanto volevo ringraziare il... Volevo ringraziare... Sente? Ci tenevo a ringraziare molto l'invito, il Ministro e gli organizzatori per questo invito ha una condivisione, una riflessione che secondo me è molto necessaria. Io faccio la produttrice televisiva cinematografica, quindi mi piace definirmi un'imprenditrice della cultura come altri. Ho lavorato tanti anni in una grande società di produzione per 13 anni e poi qualche anno fa ho deciso di mettere una mia attività in proprio. È stata una decisione molto difficile da prendere, poi anche una decisione molto difficile da fare perché sono stata attorniata da una schiera di quelli che definisco i scoraggiatori militanti, che sono una schiera molto folta nel nostro Paese. I scoraggiatori militanti tendono a non amare il cambiamento. Io penso che il cambiamento sia necessario, sia necessario nel nostro settore principalmente, sia necessario per fare imprenditoria giovane e quindi l'ho fatto. Però l'ho fatto a Roma e io sono una palermitana, sono una siciliana ed è da qui che io voglio partire con la mia riflessione. Perché io... Scusami, il brusio post-prandiale capisco che è una necessità, forse però potrei se vi posso pregare. Grazie. Io faccio parte di una generazione di ragazzi del Sud che hanno sempre dato per scontato che bisognava andarsene. Io non mi ricordo nessuna conversazione fra i miei amici e i miei compagni in cui si pensava di rimanere lì dove eravamo cresciuti. Il tema era dove andremo, non che cosa faremo qui. Soprattutto siamo quella generazione che non ha conosciuto le agevolazioni della Cassa del Mezzogiorno, che oggi è stata anche ricordata in vari interventi. Non solo non le ha conosciute direttamente, ma ne ha sentito parlare e ne ha sentito parlare male. Il Sud per tanti anni ha insegnato ai giovani che era molto meglio vincere il bando della regione che imparare a fare un business plan o un piano aziendale, che era molto meglio ed era efficace riuscire a corteggiare i potenti locali per creare una propria attività imprenditoriale. Se no era assolutamente impossibile entrare nelle dinamiche di mercato. E questi insegnamenti che per anni hanno caratterizzato le generazioni del Sud hanno lasciato dei segni e quindi la gente è andata via. Fra l'altro voglio ricordare che nella mia famiglia, nella mia esperienza personale, c'è la testimonianza di una grande donna che è Elvira Sellerio, che negli anni 70, che è mia zia, che era mia zia, che negli anni 70 ha creato una delle più grandi realtà editoriali ancora oggi presenti nel Paese. Quindi mi chiedo, applicando il mio settore all'audiovisivo, se oggi questa cosa è possibile, se oggi sarebbe possibile creare un polo culturale importante. E penso di sì. Penso che sia necessario innanzitutto creare un circolo virtuoso tra produzione, formazione e crescita, in cui sia le istituzioni pubbliche, che quelle private debbano poter coinvolgere anche persone competenti del settore. Io faccio una riflessione sulla Sicilia ma che è estendibile a tutto il meridione. Abbiamo i più grandi scenari che ci possono essere naturalmente. Dietro ogni palazzo del Sud c'è una storia e il nostro lavoro è quello di raccontare delle storie, di raccontare delle cose. Bufalino diceva che la Sicilia è una cerniera tra la grande cultura occidentale e le tentazioni del sole e del deserto. Questa è l'essenza del nostro lavoro. Noi dobbiamo raccontare delle storie, ma dobbiamo essere noi a raccontare le nostre storie. Il tema è questo. Perché le nostre storie devono essere raccontate da altri? Io ho lavorato per tanti anni in una società che ha prodotto una serie famosissima che è il Commissario Montalbano, ambientata in Sicilia, così come ce ne sono tante altre che vengono ambientate e girate in Sicilia e nel Sud. Ma non rimane niente di strutturato. Non rimane una industria audiovisiva strutturata per mancanza, come dire, di una strutturazione di episodi spot, spesso anche virtuosi, che non diventano sistema. Per esempio in Campania c'è una realtà molto importante che è stata creata e ideata da Giovanni Minoli, che è la serie Un Posto al Sole, che ha lasciato strutture, servizi, indotto, competenze, più di 1700 posti intellettuali, cioè una delle più grandi industrie che ci sono in Campania. Così come la Puglia Field Commission, che è una realtà estremamente eccellente di amministrazione pubblica. Un recente studio dell'agenzia Cume, chiesto da Puglia Field Commission, ci dà dei numeri che sono fondamentali per capire il livello di impatto che un'industria così importante come un'industria audiovisiva può avere a livello locale. A Puglia Field Commission ha investito 11 milioni di euro in circa 270 progetti audiovisivi realizzati, coinvolgendo 180 comuni, con un ritorno di circa 46 milioni di euro, che sommati a un indotto fanno 90 milioni di euro. Ma perché parlo di Apuglia Field Commission? Perché oltre all'impatto economico e turistico che sicuramente c'è, Apuglia Field Commission è riuscita a fare una vera industria creativa locale, perché creare industria creativa ed essere il volano della promozione turistica non sono due cose alternative. Non si spiega perché questi episodi spot non possano diventare sistema e secondo me affinché diventino sistema è necessario avere imprenditori culturali. Imprenditori culturali rispetto a cui lo Stato diventa complice di un vero rilancio del patrimonio culturale in termini industriali, anche per considerarlo una vera leva nazionale dello sviluppo del Paese. Una domanda veloce. Oltre alla discontinuità imprenditoriale, poi c'è una discontinuità anche di merito nella narrazione del meridione? Assolutamente sì. Io penso che oggi più che mai sia necessario creare un racconto alternativo a quello dominante. Ci sono due punti importantissimi su questo. Il primo è di carattere quantitativo. Incredibilmente negli ultimi anni il mezzogiorno è sparito dalla copertura dei media nazionali. soltanto il 9% dei servizi del Tg1 parla di Sud. E questo è un primo dato. L'altra considerazione è una considerazione di tipo qualitativo. Non possiamo continuare ad avere una narrazione unica di un Sud dolente e criminale, terra dei fuochi abitata da diavoli. Questo non vuol dire negare un certo tipo di realtà che purtroppo esistono. Significa riequilibrare, avere una narrazione che sia riequilibrata da cose positive. Un certo tipo di narrazione, questo mi ricollego a degli interventi anche precedenti, contribuisce a creare industria nel meridione. Perché una narrazione scorretta diventa l'alibi per il disinvestimento nel Sud. Già ci sono poche risorse e si pensa non diamo risorse laddove vengono sprecate. Lo sa che questa affermazione ha aperto tutta la discussione. E poi ha tutta la discussione che poi forse faremo. Quindi non bisogna produrre comorre puntini in puntini. Poi ci torniamo. Mirella Stampa Barracco con la Fondazione 99 di Napoli. Non so, forse rappresenta una tradizione illuministica del mezzogiorno. Infatti, quando siamo nati, intanto voglio dire che mi piace moltissimo il titolo che parla di mezzogiorno protagonista in positivo, missione possibile. Quando noi abbiamo cominciato nell'84, all'indomani del terremoto, abbiamo parlato di sfida possibile. Quando noi abbiamo detto che il bene culturale, la cultura, sarebbe stato per il mezzogiorno il nostro strumento di azione. Abbiamo avuto risatine, ma come Napoli, il sud, la cultura. Mi interesseranno mille persone, quelle che avranno a sentire i convegni. E invece abbiamo avuto ragione. Perché ancora oggi io ringrazio il presidente Pittella che ha parlato dell'importanza della cultura e dell'importanza delle scuole. E così anche il sindaco di Matera. E vi spiego perché. Allora abbiamo fatto tante cose. In questa sfida possibile non si è mai interrotta. non è ancora una missione forse, ma soprattutto quotidianamente è una sfida. E tutti voi che operate nel mezzogiorno lo sapete. Quindi i due concetti, i due progetti più forti e più radicati oggi sono, uno, la scuola adotta a un monumento nato nel 1993, inaugurato dal presidente napolitano e l'allora presidente della Camera. E da allora è stata una specie di Palla di Neve che coinvolgendo, sempre di più allargandosi, coinvolgendo comuni. Abbiamo 400 comuni italiani che partecipano in rete nazionale. Abbiamo duemila scuole che fanno parte. A Matera ce n'è una. Devo dire, peccato, non le abbiamo invitati. Che è il liceo scientifico Dante Alighieri che ha adottato la Fontana Ferdinandea. Quindi perché queste adozioni? Qual è il senso? Perché la scuola, i programmi scolastici non insegnano la storia dei paesi, la storia dei monumenti che raccontano. E sono come se ci fosse stato un velo che li hanno nascosti. Improvvisamente. E vi dico che queste scuole da Torino, noi siamo stati questa settimana a Trieste e a Reggio Calabria per dire come copriamo tutto il territorio perché i sindaci fanno le cerimonie di affido, perché devono dare in affido alle scuole i monumenti. E cosa significa? Significa qualcosa di più, un impegno morale, un impegno di affetto. Pensate che Torino, Roma, Palermo fanno parte del progetto del 94. Dal 94 si sono avvicendati a Roma Veltroni, al Comune, Rutelli, Alemanno, oggi Laraggi. Il progetto è sempre un progetto sostenuto e con risorse di personale dedicate. Quindi evidentemente i sindaci hanno capito il valore che non è solo politico, non è solo educativo, è la costruzione di un senso civico, di un senso di appartenenza. Qui in Basilicata abbiamo 22 comuni che partecipano con alcune scuole. Che cosa significa oggi partecipare? Abbiamo creato l'Atlante nazionale dei monumenti adottati. Se voi cliccate vedrete queste migliaia di scuole dal Trentino alla Sicilia, alla Sardegna, a Liguria, dovunque, che hanno lavorato, hanno costruito un video e hanno fatto conoscere il monumento da loro adottato. Quindi con un lavoro di un anno scolastico, con una partecipazione e cominciamo a costruire addirittura l'archivio nazionale. Un archivio nazionale che non è un elenco di nomi, ma è un elenco di lavoro, di studi, di passione, di amore. Perché vi dico la cosa che ci ha stupito in questo seconda tranche, perché noi dal 50, parentesi, nel 2014 il MIUR e il MIBAT hanno inserito il progetto della scuola adottato monumento nel loro protocollo di intesa come progetto di buona pratica nazionale e ventennale. Non esiste in Italia, tutte le scuole fanno i ponni, i pof, tra loro e loro. Invece ora sono in rete e la rete c'è la competizione. Addirittura quelle di un'unica città si conoscono, si vedono e soprattutto nei paesi più piccoli. Ho scoperto dei paesi di cui non conoscevo il nome. La Lombardia ha partecipato in blocco, anche se bisogna dire il sud è più presente. La Sicilia, la Puglia e la Campania sono quelli più attivi, più presenti, ma i piccoli paesi ci hanno ringraziato perché li abbiamo aiutati a lavorare sull'identità, a lavorare sul cittadinanza, sul senso civico e questo è quindi quello su cui stiamo lavorando e in crescita come la famosa palla di neve di cui ho detto. Poi c'è, ecco te, il nostro impegno da 17 anni in Calabria. In Calabria siamo entrate, era anche un dovere, diciamo, della famiglia di mio marito che doveva restituire alla Calabria tanti anni che la sua famiglia e con questo all'antifondo aveva fino alla riforma agraria di cui si è citato. Quindi questa fondazione che poi è nata per il terremoto a Napoli, in verità sarebbe dovuta nascere in Calabria. Invece ci siamo arrivati nel 2000, scusate, siamo arrivati nel 2000 con, dovevamo avere un progetto, non potevamo entrare e il nostro progetto è stato il parco letterario dedicato a Norman Douglas, i viaggiatori del Grand Tour. Ma come? Non è un parco letterario dedicato a un letterato italiano, era l'unico, però noi diciamo, siccome era per progetti nelle zone dell'obiettivo 1, noi dovevamo utilizzare qualunque strumento per motivare il turismo, per far conoscere questi posti sconosciuti e quindi siamo partiti con questa attività di valorizzazione, di promozione e anche lì abbiamo battuto passo passo, abbiamo conosciuto tutte le associazioni, tutti i più piccoli e ci stanno delle realtà straordinarie che non fanno sistema. Oggi abbiamo conosciuto questo magnifico del Goel, ma ce ne sono a Catanzaro, ad alto mondo, dovunque, perché i ragazzi che non lavorano e che hanno voglia di dare il loro contributo si organizzano o nel volontariato o in piccoli tentativi di accompagnamento, di guida e questa alternanza scuola-lavoro è un'altra cosa che insieme al FAI e al Touring Club hanno dato una mano a questi giovani che senza lavoro. E poi a un certo punto abbiamo detto ma dobbiamo fare qualcosa di più e abbiamo creato nel 2005 con Gian Antonio Stella il Museo dell'Emigrazione, si chiama la nave della Sila perché Gian Antonio ha voluto immaginare una nave sui monti della Sila. Ma come? Un paese da dove sono partiti i migranti però non è un museo locale, è un museo nazionale, parla del Veneto, di tutta la storia della migrazione italiana e nel 2007 noi abbiamo cominciato a fare lavori, concorsi con le scuole. Vedevamo sempre che quando il tema era i viaggi del riscatto aperivano sempre le scuole, ci mentevano sempre il coté degli immigrati, c'erano foto, c'erano immagini, cioè senza che noi l'avessimo sollecitato le scuole avevano scoperto che cominciava per Calabria da terra di partenza diventava terra di arrivo. E quindi abbiamo aggiunto nel 2012 un container, il container dell'immigrazione dove abbiamo appunto fatto una video installazione sul dramma perché nel 2012, pur se le scuole nel 2007 già l'avevano percepito, nel 2012 non era ancora scoppiato, almeno non era scoppiato da noi in Italia, era scoppiato perché in Libia noi abbiamo fatto vedere i viaggi nel deserto, le cose terribili e che poi finivano sempre, guarda caso, in Calabria Rosarno, cioè era come un paradigma, partivano dall'Africa e arrivavano a Rosarno con le tragedie che poi abbiamo tutti visto. Quindi il nostro contributo è diventato un contributo che è partito da un'attenzione sulla letteratura, perché in Calabria la letteratura e la letteratura poi è diventato il paesaggio e poi il paesaggio non ha potuto esimersi dal diventare immigrazione, immigrazione e poi immigrazione. Quindi noi cerchiamo di essere piccoli, ma per essere quindi elastici seguire le attenzioni, i bisogni, le necessità e di volta in volta attrezzarci per dare risposta a questi bisogni. Grazie. Grazie. Stamattina quando il professor Lepore ha fatto scorrere le immagini sui testi sacri del meridionalismo mi ha colpito subito che sotto ci fosse scritto Edizioni La Terza. Insomma, quindi Alessandro viene qui diciamo non solo per il suo impegno nelle associazioni impenditoriali, il suo impegno nella casa editrice, ma anche come erede di una storia che appunto parte proprio dall'inizio della riflessione sul meridione. E quindi diciamo a tutte le carte in regola per dirci oggi come come vede la situazione. Bene, buonasera a tutti. Spero che vi state riprendendo dal buffet, perché capisco che adesso è un momento difficile. Sono incerto se intrattenervi sulle questioni specifiche relative all'offerta culturale, editoriale del Mezzogiorno. Potrei restringere molto il campo offendendo molti colleghi illustri, ma appunto approfitto della presenza di Guardia Giorgiani per dire che certamente la Sellerio rappresenta una delle più belle e non solo quantitativamente importanti esperienze editoriali per quanto mi guarda europei, italiane e certamente meridionali. ringrazio ovviamente il Ministero della Coesione e la Presidenza del Consiglio per l'invito e voglio sfidarvi invece a un piccolo gioco che riguarda la cultura del Sud. Allora voi sapete che noi ci ripetiamo spesso il fatto che in Italia si legge poco, cioè c'è il 60% degli italiani che, ad eccezione che per l'uso scolastico, non leggono nemmeno un libro all'anno. Poi possiamo dibattere se questo è rilevante o meno, per me ovviamente lo è. In realtà il 50% degli italiani nel centro-nord, ed è già un numero spaventoso, non leggono nemmeno un libro all'anno, nel Sud arriviamo a circa il 70%, il che ovviamente suscita in me degli interrogativi anche su tematiche che per esempio riguardano la nostra capacità di essere presenti sulla scena politica, perché ovviamente la lettura dei libri come dei giornali è essenziale anche per essere poi in grado di esprimersi, di capire in che universo ci muoviamo. E quando vedo questo dato la domanda è perché, ma che cos'è una condanna, un elemento di arretratezza, qualcuno addirittura sospetta che ci sia qualche tara antropologica. Non credo che si tratti di questo. Ci sono dei temi molto precisi, sui quali io credo sia opportuno confrontarsi per vedere se la missione è veramente possibile, come recita il titolo del nostro incontro. E secondo me il primo punto, per spiegare perché nel Sud si legge poco, è il punto della dispersione scolastica. Dovremmo, dobbiamo sapere che in Italia c'è circa il 15% della popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha completato gli studi, che si è persa per strada a vari livelli. Nel Sud questa percentuale è del 18% e, ahimè, gloria, in Sicilia è addirittura del 23%. Premessa importante, sono stati fatti passi da gigante, perché i numeri che avevamo nel 2000 erano di gran lunga peggiori. Quindi se siamo messi male, pensate come eravamo messi qualche anno fa. Su questo c'è poco da dibattere. Come si risolve questa questione? Più tempo a scuola. Non c'è una discussione articolata da fare. In Puglia, se fatto, l'ha fatto la regione Puglia, più ore a scuola per i ragazzi e il risultato in termini di contrazione della dispersione e del miglioramento anche sui famosi test in Valsi e Ox e Pisa, si è visto. Poi spetta la regione, spetta il governo centrale, questo non lo voglio discutere io, però qui c'è un tema grosso e molto rilevante. Seconda questione, di cui non riesco mai a parlare, perché mi appassiona troppo la scuola, è il tema dell'università, su quale la valutazione valutazione più che tecnica, a mio avviso, è politica. Noi abbiamo una situazione in cui in Italia, in un decennio, tra i primi anni 2000, 2013 e 2014, le immatricolazioni alle università sono scese del circa il 15%. In Italia, quando scendiamo a sud, il quadro francamente è inquietante. Se prendiamo qualche sede, in omaggio a Medellarepere, posso ricordare che la Federico II si è persa circa un quarto degli studenti. A Bari, Politecnica, l'università circa il 20%. A Catania e Palermo siamo intorno al 40% di calo delle immatricolazioni. In omaggio alla Basilicata, anche qui stiamo intorno al 40%, poco meno del 40%. Un calo verticale. Dovuto anche a questioni di evoluzione della popolazione, diciamo, meno 19 anni, purtroppo il numero di diplomati che non aumenta in maniera adeguata, però qui ci sono in realtà meno studenti e studentesse che si iscrivono all'università. Questo tema si congiunge poi con il fatto che c'è una questione che dobbiamo decidere di affrontare e cioè che le risorse per le università lo sono storicamente, non è un fatto recente, ma sono pochissime in Italia. Ci dobbiamo ficcare nella testa che, mal contati, noi abbiamo circa 7 miliardi che mettiamo sul nostro sistema universitario, in Germania ce ne mettono 27. Allora stabiliamo da che parte vogliamo stare. E negli ultimi, credo, 7-8 anni il fondo ordinario di funzionamento dell'università è stato tagliato del 20%, quindi non è che siamo fermi, siamo in diminuzione. In più, oggi, ma è troppo complicato, Dario ne vorrebbe parlare, se ne è stato tutto un discorso su come redistribuire queste risorse scarse, sulla base di principi meritocratici che andrebbero un pochino approfonditi, perché la meritocrazia è una cosa buona ma va praticata correttamente, e quindi paradossalmente le poche risorse vengono poi ulteriormente ripartite con un evidente svantaggio per quanto riguarda le sedi universitari meridionali. Perché il problema è politico? Perché noi dobbiamo decidere una volta per tutti, ma qui si devono far sentire anche meridionali, se vogliamo poche università, magari qualcuna pure nel sud, ma poche università che creino pochi super laureati, che è un obiettivo anche accettabile, io non lo condivido, ma è anche accettabile, o se vogliamo avere una buona copertura di università su tutto il territorio nazionale e aumentare questo benedetto numero dei laureati che purtroppo in Italia, in ogni caso, scarseggia. La cattiva situazione della scuola e la cattiva situazione dell'università per me alimentano la questione conclusiva e più importante, e il fatto che noi abbiamo la bellezza di più di due milioni di net, cioè studenti che non lavorano, pardon, giovani che non lavorano e non studiano, e di questi uno su quattro è a nord, da noi nel sud è uno su tre, quindi una percentuale che è drammatica su scala nazionale, ma tanto più grave nel mezzogiorno. Quindi, ritorno al mio argomento di partenza, discutiamo di cultura, mi piacerebbe anche parlare più approfonditamente di come è cresciuta la creatività meridionale, però partiamo anche da quelli che sono discorsi di base. Se non c'è un intervento severo di cui però è il sud che deve sentirsi protagonisti molto forte, su scuola e università, io temo che la missione diventi molto meno possibile di quanto non sia nelle nostre aspettative. Grazie Alessandro. Oscar Iarussi è una firma della Gazzetta del Mezzogiorno, ma diciamo in generale è una firma importante dei giornali del sud e quindi da collega gli chiedo non solo di dire le cose che pensa sul primo giro, ma poi di aiutarmi nel cuscire questa riflessione con le prime cose che abbiamo sentito. Grazie Dario. Buonasera, ringrazio anche io la Presidenza del Consiglio e il Ministro De Vincenti per questo invito, che naturalmente mi onora. Non sono molto frequenti le occasioni di conversare fuori dagli schemi. E ringrazio subito la nostra amica Gloria Giorgiani per aver citato a Puglia Film Commission, la quale qualche anno fa ha detto il mio contributo come Presidente della fase di Startup, come si dice in italiano. Abbiamo tutti ormai questo anglicismo imperante. E riprenderei, comincerei prendendo le fila proprio dal discorso che faceva lei, ovvero dalle immagini del Mezzogiorno, dalle immagini dominanti, che sono delle immagini sostanzialmente dominate, pregne di una dimensione nostalgica, arcadica, diciamo così. E questo naturalmente vale per Gomorra, perché c'è la nostalgia di attribuire al Mezzogiorno, in assenza della questione meridionale, come si diceva una volta, c'è la nostalgia di attribuire un aggettivo ed è facile attribuirgli l'aggettivo di questione criminale. Per cui noi abbiamo effettivamente realizzato in giro di pochi anni, dopo un secolo quasi di riflessioni su questa questione, siamo passati dalla questione meridionale alla questione criminale to cure. Questo naturalmente non è, ripeto, non è colpa o responsabilità esclusiva di Roberto Saviano, perché si tratta piuttosto, a mio avviso, di un meccanismo insito nella dinamica della serialità, che ti fa abituare, ti fa affezionare dei personaggi. Per cui quando qualche mese fa mi è arrivato su Twitter il giochino per cui dovevo scegliere qual era il mio personaggio preferito di Gomorra, ho capito che avevamo chiuso, che stavamo per chiudere. D'altro canto, lo dico in presenza di una giovane produttrice che ha contribuito al successo di Montalbano e l'assumo come elemento paradigmatico, e anche in questo caso non si tratta, come dire, di una, tra virgolette, responsabilità da attribuire a un grande scrittore, quale André Camilleri, abbiamo l'inclinazione, si tratti della pizzica pugliese, o di Montalbano, o del recente, oltretutto bellissimo, come molte puntate di Montalbano, o del recente Maltese, con un altro grande attore oltre a quello che ci ha preceduto, come Kim Rossi-Stewart, abbiamo questa propensione a coltivare una dimensione speculare e contraria di un'Arcadia, come dire, in cui il mare è azzurrissimo, in cui si dice Mephistofale c'è, ma tutto sommato si può superare facendo un bagno nelle acque appunto di Vicata. Tra l'altro segnalo che la casa di Salvo è stata evidentemente costruita prima della legge Galasso, a meno di 300 metri dal mare, e abbia tutta la mia invidia, non solo la tua, ma la mia invidia. Cosa voglio dire? Che siamo iscritti dentro una metafora che è una metafora passatista, è una metafora che afferisce al passato, è una metafora che per certi versi, lo dico in Basilicata, lo dico a Matera, che è stata la città cara naturalmente a Carlo Levi, ma anche qualche anno più tardi a Pier Paolo Pasolini, dentro una metafora, diciamo così, di pasolinismo deteriore. Il Sud come ultima tribù, che era la definizione che Pier Paolo Pasolini attribuiva a Napoli, il Sud come Arcadia, il Sud come nostalgia, il Sud come passato, il Sud che piace all'estero. Pensate che non soltanto le nostre fiction sono tra le più vendute nel mondo. Penso naturalmente a Montalbano, penso naturalmente a Gomorra, penso all'imminente, l'amica geniale di Elena Ferrante, già prevenduta in tutto il mondo, ma anche i nostri film, i film per esempio che vincono gli Oscar. Se non sono film che parlano di ebraismo, sono film che parlano di una dimensione mediterranea. Il nuovo cinema Paradiso, Mediterraneo Salvatore, insomma, è difficile che oltrooceano piaccia qualcosa che sta al nord di Napoli, è molto difficile. La stessa immagine dell'Italia, le stesse icone italiane sono delle icone meridionali, Totò, Sofia Loren, molto in Napoli, De Sica e via discorrendo. Tuttavia questo appunto rischia di indurci in un equivoco. Naturalmente possiamo cavalcare l'onda e dobbiamo anche farlo. Dovessimo metterci a protestare. Salutiamo il Presidente del Consiglio. Un breve promemoria, Presidente, stiamo discutendo di cultura nel mezzogiorno, il collega Iarussi della Gazzetta del Mezzogiorno stava intervenendo. La discussione si è, diciamo, dopo un primo giro sull'offerta culturale nel mezzogiorno e quali punti di eccellenza avesse, si sta un po' focalizzando sull'immaginario del mezzogiorno che produciamo e quindi siamo inevitabilmente arrivati a discutere un po' delle immagini delle fiction. Lei si è interessato molto spesso di RAI e produzione audiovisiva, quindi il tema non lo trovo a digiuno. E dicevo, naturalmente non si tratta di, come dire, inibire questi successi. Si tratta piuttosto però da meridionali e vista da sud di opporre una lettura un po' differente rispetto a questa. Noi non siamo affatto il passato, noi non siamo affatto, come qualunque meridionale sa, qualunque persona che lavori al sud o che venga al sud sa bene, non siamo affatto iscritti dentro questa metafora. Noi siamo piuttosto, se ridire, il futuro. È un futuro che non è retorico, perché è un futuro che è cominciato esattamente 25 anni fa, ringrazio Mirella Barracco per aver ricordato la vicenda delle migrazioni, che cominciò nel porto di Bari l'8 agosto del 91 con il profilarsi all'orizzonte di quella nave, la Vlora, con 20.000 albanesi a bordo, dove tutto cambiò. Naufragò, naufragarono insieme il muro di Berlino, a me piace dire che il muro naufragò, non cadde, perché era caduto soltanto due anni prima, ma in quel momento quello che Pedro Agmateri chiamò il mondo ex si riversò, cominciò a riversarsi su di noi, e naufragò anche la questione meridionale. E lì, caro Ministro De Vincenti, è cominciata a ribaltarsi la questione meridionale nei suoi termini tradizionali. Si capì che non avevamo più un mondo che poteva guardare solamente a nord, ma che doveva guardare a 360 gradi. Quella vicenda migratoria era e resta, e quasi sicuramente resterà per molti lustri ancora, il punto essenziale, nodale, uno dei punti essenziali nodali della postmodernità, come ci piace chiamarla. E su quella vicenda, ovvero sull'essere frontiera, noi condividiamo, noi in mezzogiorno in Italia, perché dopo Bari c'è stato Lampedusa, parlo soltanto dei simboli, dei luoghi simbolo, ma ve ne sono molti altri, noi condividiamo delle responsabilità e un modo di accogliere, e un modo di intervenire su questa vicenda, che si perpetua ogni giorno in altri punti caldi del mondo. Naturalmente penso alla frontiera messicana-statunitense, e che si riperpetua anche nell'immaginario collettivo. Nei prossimi mesi, soltanto ieri alla Fondazione Prada di Milano, si è inaugurata una straordinaria installazione di Alejandro González Iñárritu, uno dei più grandi registri del mondo, vincitore di quattro premi Oscar finora, che è un'installazione di realtà virtuale, per cui tu simuli di essere un migrante messicano che supera la frontiera. Nei prossimi mesi, anche in Italia, ci sarà un film che è stato prevenduto al Festival Icala in tutto il mondo, Human Flow si chiama, di Awe Wei, celebre dissidente cinese, una star dell'arte contemporanea, il quale ha fatto il giro del mondo per raccontare quante situazioni, come quella di Lampedusa o come quella di Bari di 25 anni fa, vi siano. Stiamo parlando di un esodo di centinaia e centinaia di milioni di persone. Quindi stiamo parlando della questione che ci dominerà nei prossimi anni. Questa questione oggi è la questione meridionale. Oggi la questione meridionale va iscritta e rilanciata sul tema del futuro. Tu prima Dario hai fatto un cenno, se ne hai parlato anche stamattina, il ministro ha fatto un cenno all'Ilva di Taranto. Anche quella è una questione che non riguarda solamente noi. Ne parlo in termini simbolici, non sono un esperto di economia, sono un giornalista culturale. Anche quella va a palesare un dilemma salute, lavoro, ambiente, che è un dilemma che si perpetua sulle coste dell'India, in America Latina, in molte parti del mondo. In tutti i punti caldi c'è qualcosa che oggi si chiama sud. In tutti i punti caldi ci siamo noi. Ecco perché proporrei di smetterla di considerarci questa tribù del passato che piace tanto agli stranieri. e proporrei di rilanciare, concludo su questo, sul versante di ritenersi, considerarsi, contemplarsi, interrogarsi come un'avanguardia della postmodernità, non come la retroguardia. Oscar, però da giornalista a giornalista ti faccio una domanda. Stiamo discutendo di produzione di immaginario e a nessuno è venuta in mente la parola giornali, il che corporativamente mi colpisce. Ti faccio la domanda. I giornali nel sud non conta niente nella produzione, nell'elaborazione di quell'immagine nuova, discontinua, che in parecchie avete chiesto. Non li legge più nessuno. Sono residuali per 3.000 motivi. Ci dai una risposta da giornalista? Molto velocemente. Purtroppo i dati di lettura dei giornali, rispetto a quelli citati da Alessandro la terza dei libri, sono ancora peggiori. Tu sai quanto me che, non so, mi ha sempre colpito la differenza che intercorreva tra i lettori che c'erano in Puglia e quelli in Liguria. C'erano le percentuali che facevano spavento, purtroppo a nostro discapito. I giornali in generale sono residuali. Questo è quello che dicono tutti. Io non credo che sia così e non credo che sia così neppure per la carta stampata in quanto tale. Credo che si tratterebbe di mettere in campo degli sforzi di fantasia e di economia che non siano limitati a tagliare i posti dei giornalisti e dei poligrafici ma a rilanciare anche sulla carta stampata. Vi sono esperienze, soprattutto su giornali medio-grandi o medio-piccoli, a seconda di come la si voglia vedere. Penso a due grandi giornali, un tempo, grandi giornali del mezzogiorno come il mio e il mattino di Napoli, ma potremmo parlare anche della stampa siciliana, il giornale Sicilia, la Sicilia e via discorrendo, che hanno quella dimensione che in altri posti, come Stare Dario per esempio negli Stati Uniti, stanno ottenendo dei rilanci. I giornali contano? Sì, contano. Altrimenti non si spiegherebbe perché, per esempio, l'industria culturale paga lo stipendio a decine e decine di addetti stampa. Cioè, se i giornali non contassero più nulla, non si capisce perché dovremmo ricevere decine di telefonate al giorno per raccomandarci un libro, uno spettacolo teatrale. Cioè, se a Mondatori paga uno stipendio a uno degli suoi addetti stampa che mi chiama, ci sarà un senso. Contano perché c'è un livello di prestigio che nessun social network ancora ha riuscito a raggiungere. Contano nella, in quella che ha chiamato con una parola che personalmente non amo moltissimo, ma che trovo valida, contano nella narrazione del Sud? Sì, contano. Contano nel far sì che lo story e il telling, diciamo così, tendano a corrispondere. Perché sui social spesso le due cose non corrispondono affatto. E devo dire anche in politica a volte non è così. Grazie. Allora, torniamo da Gloria Giorgiani perché all'inizio, diciamo all'inizio, questa discussione un po' sull'immaginario è sorta proprio da una sua battuta sulla necessità di un'immagine alternativa rispetto sia a quella molto molto tradizionale del pianisteo e a quella veicolata, diciamo, dalle fiction su tema criminale. E quindi io volevo chiedere a Gloria Giorgiani quali sono, diciamo, dei punti a cui attaccarsi per produrre quell'immagine alternativa, come l'ha definita lei. Io mi ricollego anche a quello che ha detto Oscar perché la narrazione del Sud è sicuramente una narrazione che negli ultimi anni il cinema, la televisione, le piattaforme digitali, la letteratura in certe maniere, in qualche modo ha smesso di far percepire, di rendere anche i giornali come una questione unica e nazionale. Cioè il Sud viene sempre più percepito e quindi anche reso come un fattore endemico di debolezza ormai irrisolvibile. Allora, questa narrazione deve per forza essere modificata perché è una parte del racconto del Sud. Facevamo l'esempio di Gomorra prima, il racconto di un Sud gomorrificato non è un racconto falso di per sé, diventa falsa coscienza quando è l'unico racconto. Io su questo vorrei insistere sul fatto che il fatto di poter avere delle narrazioni autoctone e quindi noi che raccontiamo le nostre storie, questo qui è un punto che secondo me intanto da identità. L'identità è un fattore importantissimo per il nostro mezzogiorno, è importante per chi fa il mio lavoro, per chi racconta, ma soprattutto per chi racconta e esporta all'estero. È inutile, anzi è utilissimo ricordare come un grande maestro come tornatore racconta un piccolo cinema della Sicilia e lo porta in tutto il mondo. Ed è una narrazione che deve essere fatta da noi nei nostri territori. Lo dico perché questo che è strettamente collegato al fatto di creare anche un'industria audiovisiva, le due cose per me non sono scisse. La narrazione e l'industria audiovisiva che rimangono nel territorio devono essere integrate, devono dialogare insieme. È questa cerniera che manca. Fra un racconto che viene dalle persone è un'industria che possa proporsi e qui ovviamente le intenzioni e le opportunità potrebbero esserci. Io per esempio ci tengo a sottolineare che nel nostro settore dell'audiovisivo finalmente è stata fatta una legge Franceschini sull'audiovisivo e il cinema che pone dei punti che secondo me possono essere una direzione da applicare anche alle amministrazioni locali. Sono due punti cardine. Il primo è l'automatismo dell'accesso ai finanziamenti pubblici che vuol dire semplificazione e il secondo, forse ancora più importante, è l'eliminazione del concetto di discrezionalità. Cioè creare un nastro di partenza rispetto al quale siamo tutti uguali, abbiamo la possibilità di presentare dei progetti e nel momento in cui il progetto viene considerato meritorio a cedere ai finanziamenti. Il fatto di poter fare queste cose con le nostre storie e gestirle significa dare identità agli operatori culturali e al settore perché negli ultimi anni tantissimi operatori hanno creato anche la possibilità che certe storie che erano molto locali, anche la camorra raccontata da Saviano, sono diventati globali. Anche le normalità del commissario Montalbano e di Camilleri sono diventate globali, ma così anche le esagerazioni di una, come dire, ideologia del posto fisso di Checco Zalone, per non citare anche un cinema che va da Papaleo a Whisper. Cioè il tentativo di rendere più globale delle narrazioni che sono locali sicuramente c'è stato. Ma il punto, insisto, perché secondo me è collegato, è rendere questo identità dal punto di vista dei contenuti e sistema dal punto di vista dell'industria creativa. Per il mio lavoro ovviamente incontro molti dirigenti di industria e di attività economiche e un gioco che, non so, noi italiani facciamo spesso, è quello che cerco di capire immediatamente dal dialetto da dove viene, no? Almeno nei primi minuti mi succede di far questo gioco. E, come dire, i meridionali sono tantissimi, nel senso che, perché, allora arrivo a questa domanda, non so chi vuole rispondere, che quando si chiama a raccolta il meridione, delle volte si chiama a raccolta i residenti nel meridione. Ma i residenti nel meridione sono una frazione dei meridionali che, grazie anche, come dire, alle tecnologie a territoriali, diciamo, possono essere mobilitati. Perché non avviene qualcosa del genere? Nel senso che tutte le intelligenze che anche hanno lasciato il meridione e che hanno dimostrato, appunto, che non c'è una questione, non mi ricordo come l'avevi definita, antropologica o simile, di deficit meridionale, lo dimostrano ampiamente con il loro successo, però potrebbero essere parte di questa ricostruzione dell'immaginario. Perché non avviene una cosa così semplice, così... direi che c'è un problema, come dire, di, ancora una volta, di storytelling e di metterci d'accordo tra la story e il telling, come diceva Oscar Iarussi. Oggi, con il garbo che lo contraddistingue, il ministro De Vincenti ha detto, ha dichiarato all'inizio del suo intervento, guardate che ci sono grandi opportunità e poi finalmente noi opereremo per far sì che queste famose risorse nazionali, europee, in gran parte nazionale, a disposizione del Sud, abbiano carattere di addizionalità, cioè non servano a coprire quelle che sono spese ordinarie, ma a dare quell'elemento di spinta per cambiare le cose. Beh, su questo storytelling, è una vecchia questione, non è nata certo ieri, su questo storytelling ci dobbiamo mettere d'accordo appunto sulla storia e sul telling. In realtà, per quanto mi riguarda, adesso sono un libero cittadino, quindi non ho più impegni in confindustria, posso esprimermi liberamente, c'è il mio collega Panna e il mio collega Mazzucca, della parte sindacale, si occupano loro. La patata bollente l'ha lasciata loro. No, no, ma no, meglio, li posso aiutare, perché come mi posso esprimere più liberamente, anche se spero in maniera sensata, questa sarebbe una vera rivoluzione, nel senso che dobbiamo noi meridionali per primi imparare a raccontarci bene la storia, nel senso che siamo tutti ancora convinti di essere seduti su una grande quantità di soldi che poi non sappiamo usare, e come dire, siamo come tafazzi, ci autopuniamo continuamente per questo, quando in realtà la storia da molti anni ci dice che perlomeno per quanto riguarda la spesa per investimenti, nonostante i fondi per la coesione nazionale e europei, noi siamo in termini pro capite leggermente al di sotto di quello che viene speso nel centro nord. Allora, ripeto, mettiamoci d'accordo. Se va bene così, io sono molto laico, non è che mi scandalizzo, ma non stupiamoci se poi il quadro non c'è, cioè l'azione di rottura che da molto tempo si dice è necessario intraprendere, caro Dario ti comunico che non è stata intrapresa affatto e non ce l'ho ovviamente certo con il ministro De Vincenti, è una storia molto vecchia. Questo sarebbe, come dire, un atto politico e culturale, perché ripeto, ce la dobbiamo raccontare giusta, altrimenti viviamo addirittura un paradossale senso di colpa di non essere stati capaci di cogliere un'occasione. Poi fatto questo discorso, passiamo alla qualità della pubblica amministrazione locale, perché c'è molto da dire anche su questo, o anche addirittura su quello che è lo spirito di intrapresa nel mezzogiorno, c'è molto da criticare. Però c'è questo discorso di partenza dove o i termini sono chiari, oppure ci possiamo girare intorno quanto ci pare, oppure risolveremo singole situazioni, singole questioni, molto i passi sono stati fatti in avanti, ma perché negarlo? Ma il quadro generale non cambia. Allora cambiamo questo benetto storytelling di questa vicenda qui e vedrai che secondo me sia a sud, sia anche con il contributo di chi a sud non ci sta più ma viene da sud e magari potrebbe ritornare a sud, io credo che forse la missione, per tornare alla questione di prima, comincia ad essere un po' più possibile di quanto ancora oggi non sia. Sì Alessandro. La mia domanda era meno ingenua di quanto sembrasse, nel senso che c'è un difetto anche nella tradizione che è la capacità di fare comunità che è bassa, perché è questa la vera questione. A me vengono in mente i cinesi, i cinesi hanno un meraviglioso termine che è guanxi, che è testimonia della loro capacità di fare comunità, che è detta banalmente se c'è un giovane di talento in un quartiere, il quartiere lo aiuta a mettere un'impresa e poi il giovane di talento ridarà i soldi ai suoi vicini. Da noi accadrebbe? No, 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 no. No. Ecco, quindi, prego, poi le darò la loro parola. Allora, come dire, mentre i meridionali sostengono, noi meridionali, sosteniamo di essere caldi. Guardate che è un caldo molto particolare, è un caldo che riguarda la passione. Non sempre va nel senso della solidarietà fattiva. Quindi anche, non solo nello storytelling moderno, ma nello storytelling antico c'è qualcosa secondo me da rivisitare, perché non tutta la tradizione e l'antico era buona. Se non altro perché quel pezzo di tradizione buona altri imprenditori della paura l'hanno fatto proprio e l'hanno delinato in un'altra maniera. Mi aveva chiesto la parola Mirella Baracco. Volevo legarmi al rapporto tra i media e il Sud, il Mezzogiorno. Io non penso che sia stato così drammatico, perché io penso che invece noi abbiamo una forza e una tu, proprio e più che mai oggi, quando ne abbiamo cominciato, il fatto che venisse da Napoli una specie di ribellione, di proposta culturale, del tutto inaspettata, perché come dicevamo, ma come da Napoli si parte una cosa di cultura. Abbiamo avuto da tutto il mondo, perché come se si aspettasse dal Sud questo, si aspettasse il positivo. E ancora oggi, guardate, Napoli mi rendo conto è un brand, però dovunque ci sono piccole realtà, la stampa è felice di poter proporla, raccontare. Guardate per esempio alla sanità il Don Antonio Lofredo, la bella proposta del ragazzo qui di Goel. Cioè il Sud, siccome parte, e oggi più che mai con tutte queste noir che vediamo, che sembra che affondiamo nella tragedia più nera, ancora più quando escono dei fiori positivi, che sono quelli culturali, diciamo la verità, nessun altro positivo viene se non dalla cultura del Sud, in tutte le sue espressioni. Stamattina abbiamo detto che anche nell'economia ci abbiamo visto tre signori. L'economia è anche legata all'economia culturale, quello è certo, l'abbiamo raccontato oggi, ma penso che si sia felici di poterne dare notizie. Quindi e soprattutto nel buio che c'è, le piccole cose, quando avvengono nel Sud, acquistano un alone di capacità, di forza, perché si sa quanto è difficile e a cui tutti la stampa vuole dare notizie. Gloria Giorgiani aveva chiesto. Il bus io di adesso lo so che è diverso da quello di prima, quello era post parandiale, questo invece è commento diffuso, quindi non intervengo a censurarlo. Vorrei insistere su, adesso non voglio essere eccessiva, sul mio tema che è comunque rendere, fare dei film, fare delle serie, fare dei documentari e quindi fare narrazione che però riguarda anche, come dire, i giornali e appunto tutti i media. Io insisto che non c'è una comunicazione invece completa, perché è vero che vengono raccontate degli episodi, vengono raccontati come delle cose spot, come degli episodi. Cioè io vi racconto, a Palermo, molti di voi probabilmente lo conosceranno, ci tengo a citarlo. C'è un ragazzo di 33-34 anni che si chiama Ugo Parodi Giussino, che ha creato una delle società che si chiama Mosaicun, di distribuzione digitale più importanti d'Italia. Ugo dà occupazione nel settore della tecnologia digitale a circa 100 ragazzi sotto i 25 anni, ha quattro sedi in tutto il mondo e ha insistito anche perché ci tiene a mantenere un legame col territorio, a tenere la sede della sua società a Mondello nella casa dei suoi genitori, adesso sono diventati troppo grandi, si sono spostati a Isola delle Femmine. Qualcuno di voi ha sentito parlare di questa storia? Nella televisione o comunque nei grandi canali di comunicazione? E questo è un primo tema. C'è un tema anche legato a quello che si diceva questa mattina, che a me preme parecchio, che anche ha ruolo femminile, cioè le donne come vengono raccontate. Io personalmente, è vero che sono andata via, sto facendo un mio percorso che forse risente un po' di quel senso di colpa che diceva Alessandro, ma non mi sento rappresentata dai personaggi femminili che vedo nelle serie televisive, nel cinema, e questo è lontano da Gomorra, non c'entra con Gomorra, cioè ci sono dei tipi narrativi probabilmente anche molto veicolati dai network, ma su questo bisogna... Sì però, le donne in Montalbano sono tutte riconducibili a un monoschema, diciamo così. Appunto, però non mi trovo personalmente assolutamente d'accordo, insomma, ma non viene fatto un racconto, io ho provato e ho fatto l'anno scorso un racconto delle donne raccontate da Camilleri, che era uno spaccato delle donne siciliane raccontate da un grande intellettuale siciliano, ma perché ho scelto di fare questo racconto? Perché Camilleri racconta delle donne particolarmente moderne, che non sono per forza madri, mogli, che non sono per forza soltanto compagne, ma sono delle donne che scelgono. La televisione e il cinema hanno l'urgenza, l'obbligo di raccontare un Sud che ha anche degli sprazi di normalità che devono portarci lontano dalla classica retorica della miseria, della criminalità o comunque anche della rassegnazione, perché c'è anche il messaggio che siamo sempre continuamente rassegnati e pessimisti. È vero che poi siamo un po' sparsi per tutta Italia e per tutto il mondo, però io credo che rispetto a un progetto reale, a un progetto strutturale, a un progetto intellettuale, culturale, credo e auspico che molti possano rispondere a questa chiamata positivamente. Ci avviamo verso la conclusione. Poi Presidente, noi adesso voliamo un po' e giochiamo così, stamattina abbiamo fatto il pieno di slide, l'assicuro, l'assicuro, quindi... E chiacchi a volte contano più delle slide. Sì, esatto, ma comunque, intanto, cioè per dire che... Non siamo sovrastrutturali. No, 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 per dire che è stata una dieta equilibrata, ecco, su... Oscar, stamattina abbiamo fatto un gioco, no? Ottimisti e pessimisti. I pessimisti sono cassisti, nel senso che amano la cassa nel mezzogiorno e in fondo dicono che ce ne vorrebbe un'altra. Gli ottimisti sono un po' mercatisti, invece sostengono che la libera iniziativa dal basso è quella veramente sana. Dico di più, i pessimisti, un'altra cosa, i pessimisti tendono sempre a dire che le colpe sono degli altri, se la situazione è così. Gli ottimisti tendono a dire no, le colpe sono anche e soprattutto nostre. Tu, da giornalista, da commentatore, secondo te si riuscirà mai a chiudere questa forbice? Non lo so perché è una domanda difficilissima, oltretutto, naturalmente viene subito in mente, è stato citato stamattina, Antonio Gramsci, bisogna sfuggire all'ottimismo della ragione, perché a volte, piuttosto che quello della ragione, diciamolo così. A proposito di narrazioni, non sfugo al tuo quesito, ma a proposito di narrazioni, la narrazione principale che si è affermata negli ultimi trent'anni ci ha riguardato per contrarietà, nel senso che a un certo punto non si sa bene come, ma secondo un principio che a Mantua si chiama chiagni e fotti, si è improvvisamente affermato, mi scuserà il presidente per il tocco gergale, si è improvvisamente affermato il principio per cui in Italia la questione principe era la questione settenzionale. Per cui avevamo i ricchi, la parte ricca del paese, che era quella che esprimeva le geremia, le lamentele, quella che più di quella cosiddetta povera o arretrata, è riuscita in questi ultimi trent'anni a passare per vittima. Questa è stata la principale narrazione, una narrazione che naturalmente aveva le sue cause, una serie di concause, le sue cause principali sono state, io credo, siano ascrivibili all'affermarsi di un partito, la Lega Nord, per cui tutti gli altri sono andati dietro, per cui si è, come dire, disegnato questa. A fronte, a petto di questa vicenda, la questione meridionale è andata scemando, sempre di più. E' andata scemando soprattutto nella consapevolezza dell'elite, dell'elite nazionali, meridionali e settenzionali. Quindi per la prima volta abbiamo avuto il declino di una questione nazionale centrale, per la prima volta, in 150 anni, in 130 anni, perché ho cominciato una ventina di anni fa, di storia unitaria, di storia unitaria, la questione meridionale è stata obbliata, dimenticata, messa da parte. Questo corrisponde, secondo me, a un declino dell'elite to cure. Perché pensate invece a quello che è accaduto, la dico in soldoni, mi scuserete per il fatto di essere un po' grossier, ma pensate a quello che è accaduto invece in Germania, dove il tema dell'unificazione è stato il tema su cui si sono create nuove elite, su cui si sono investite delle risorse notevolissime, che sono state ben sfruttate, non sono state sottratte, e si è creata effettivamente una nuova egemonia. Da noi questo non è stato possibile. Come ha risposto il Sud rispetto a questa emergenza? A me piace pensare, e mi piace dire, che il Sud è andato in esilio. È una parola grossa, ma pensateci, tutti noi, io sono un piccolo borghese, molti sono borghesi, tutti noi facciamo in modo che i nostri figli vadano a studiare fuori. Mentre prima li incoraggiavamo a rimanere, adesso li incoraggiamo a partire. Anzi, li scoraggiamo a restare, un po' per colpa delle nostre università, che naturalmente hanno avuto meno risorse di altre, un po' ci abbiamo delle colpe anche noi, come sistema accademico, ma non conta questo. Quello che conta è che scoraggiamo la generazione di domani, la scoraggiamo a rimanere qui. E tutto il mezzogiorno, in qualche maniera, è andato in esilio. Esilio che però è preziosissimo. Pensate a che cosa sarebbe stato questo paese senza gli esiliati. Naturalmente, prima Preziosi ha parlato di Carlo Levi, si potrebbe parlare di Spinelli, a me piacerebbe, si potrebbe persino tornare indietro, a Mazzini, a Foscolo. Cioè, senza l'esilio semplicemente non c'è la patria. Oggi però, secondo me, è arrivato il momento di tornare dall'esilio. Il mezzogiorno deve tornare a casa, deve ricominciare ad occuparsi di se stesso e del paese. Le elite devono ricominciare ad occuparsi del mezzogiorno. Non abbiamo parlato di Matera 2019, ma credo che sia un'occasione rilevante, diciamo così, per mettere alla prova questa vicenda, superando sia, diciamo così, i vezi e i meridianismi di risulta tardivi, diciamo così, perché il Mediterraneo a sua volta oggi, certo che siamo protesi verso il Mediterraneo, tuttavia il Mediterraneo oggi è un bel groviglio, diciamo così, e sia, diciamo così, i burocratismi dell'Europa, per dirla in estrema sintesi. Matera, capitale europea del 2019, di quale Europa, visto che dieci anni fa capitale europea significava qualcosa, oggi di quale Europa esattamente stiamo parlando? E Matera, quindi il mezzogiorno d'Italia, può essere, dal punto di vista culturale, la cartina di Tornasole per capire di quale Europa parliamo? Questa potrebbe essere un primo passo per rientrare dall'esilio. Grazie. Beh, Oscar, però, adesso... Complicato quello che dici, no? Sì, è complicato, ma se non ci ingaggiamo in delle sfide complicate, cosa che credo sia proprio necessario, rischiamo veramente di rimanere a fare una serie di discorsi, di conversari, per carità, utilissimi, ma qui c'è un divario che perdura da 150 anni. E c'è un disinteresse che perdura da ormai una trentina d'anni, perché abbiamo un bel dire del commissario Montalbano, di Gomorra, eccetera, in realtà, tranne che per alcuni segnali incoraggianti, stamattina il ministro ha citato Pompei, ed è verissimo, si potrebbe citare la regia di Caserta, ci sono stati dei segnali incoraggianti, tuttavia, diciamo così, il Sud ha ragione Gloria, e come è scomparso, negli ultimi vent'anni, come è scomparso dalle agende che contano, dalle agende dei mass media, dell'agende della politica, e via discorrendo, quindi inevitabilmente dobbiamo alzare la sticella della sfida, io credo. Scusa Oscar, ti dico solo una cosa, come giornalista che si è occupato molto di questione settentrionale, attenzione, intanto, beh, ovviamente c'è di mezzo un soggetto politico, no? Un soggetto politico che ha avuto una forza e che tra l'altro ha avuto, ancora oggi, i presidenti di regione di Lombardia e Veneto sono due esponenti leghisti, quindi ha tuttora una forza considerevole sul campo, lasciamo perdere i sondaggi. E quindi c'è stata sicuramente quell'iniziativa, però il Nord in quella fase in cui si è imposta questa parola d'ordine, non, diciamo, la maggioranza del Nord guardava anche a una competizione internazionale, cioè la questione settentrionale non era la questione antimeridionale, come la Lega in parte ha giocato per questioni sue di consenso. L'imprenditore medio poi guardava che in realtà la questione settentrionale era un po' anche un richiamo a se stesso e in fondo, in fondo, come dire, la nuova effervescenza di Milano è stata una risposta positiva, almeno io la penso così, alla questione settentrionale, con il concorso di tantissimi meridionali. Perché la cosa che mi dicevi tu, l'appello agli esiliati, è quello che, se mi permetti, era un po' la cosa che avevo introdotto io. Attenzione, il successo del meridione è un tema che deve diventare caro non solo ai residenti nel meridione, ma almeno a tutti quelli che ci sono nati e che in tutto il mondo occupano posizioni di rilievo e quindi hanno possibilità di spostare pedine e forse anche risorse. Volevo dire un'ultima cosa Alessandro e poi chiudiamo. Volevo dire che appunto hai ragione, c'è questa chiave di lettura della questione settentrionale anche in termini naturalmente di preoccupazione rispetto a una scenario internazionale, ma a questo punto non essendo io per così dire particolarmente filo tedesco, perché avrei molte cose da dire sul sistema tedesco che sarebbe interessante discutere, non è la sede. Il sistema tedesco sul tema di una riunificazione ha basato, per così dire, la sua logica di rilancio come potenza, non solo politica, ma evidentemente come potenza economica. Su questo ho fatto leva per costruire un sistema che ben al di là dei confini della Germania di una riunificata è diventato un punto di riferimento, quello al quale noi un po' provincialmente, scusami per Milano, poi ci riferiamo senza capire che ti stai misurando con una realtà rispetto alla quale, come dire, Milano da sola non è sufficiente per così dire, diventi un appendice, non un elemento propulsivo. Il tema è se sulla questione mezzogiorno, ribattezzata eventualmente non più questione meridionale, ma eventualmente questione mediterranea, c'è la volontà di fare una battaglia, farne un punto di forza per un confronto, oppure no. In questo è chiaro che c'è una responsabilità forte dei meridionali. In Sicilia, quando mi facevano notare giustamente qualche tempo fa, che ai primi anni 90 è successo qualche cosa, cioè la mafia non può dire che in Sicilia ha comandato come per decenni aveva comandato dopo le stragi di Falcone di Borsellino, e diceva noi abbiamo fatto un cambio notevole, io gli ho detto sì, è vero, è cambiato molto, è cambiata la vita, il tono sociale della vita a Palermo, ma se poi quando i siciliani vanno al voto si esprimono in un certo modo, e non voglio stare a fare nomi perché non ho antipatie personali, allora mi domando come facciamo come cittadini del Sud a tenere insieme la voglia di riscatto, che in quel caso c'è stato, non è stato solo un fatto militare e di magistratura, come mai quella voglia di riscatto non si è trasformata in una speranza politica e ci siamo ritrovati con dei governi regionali francamente imbarazzanti. Allora lì dobbiamo interrogarci noi, quando andiamo al voto e quando guardiamo i nostri politici e quando ci raffiguriamo come soggetti politici, non è che siamo inerti e morti e subiamo la politica, la politica la facciamo in tanti mondi anche andando a votare, quindi abbiamo tutte le nostre responsabilità. Ci ho detto, ci ho detto, a ragione Oscar, c'è un tema molto forte, e cioè che l'elite del paese ha in qualche maniera dimenticato o messo in subordine questo capitolo. Poi sta a noi, non solo al governo naturalmente, a tutti noi, decidere se possiamo andare oltre la splendida collezione di eccezioni. Perché poi quando ci diciamo, appunto, c'è questo e quest'altro, ma nel sud, come in tutta Italia, francamente, come quando si dice, in Italia si mangia dappertutto bene. Io vi dico che in Italia, dovunque tu vada, pure nella provincia più sfortunata, troverai non una buona impresa, un'impresa meravigliosa. La questione è che nel sud, questo campionario molto ricco, in realtà non ha ancora una densità di tessuto sufficiente. E noi non possiamo lavorare solo sulle splendide eccezioni, dobbiamo lavorare sul tessuto. Questo è un discorso politico. Grazie. Allora, non so se questo sarà ricordato come il convegno più lungimirante che si è tenuto, ma sicuramente come quello più puntuale. E quindi ringrazierei i quattro speaker. e cederei la parola al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Grazie. Grazie.